Mechanic Resurrection, il sequel del film The Mechanic uscito nel 2011, arriverà negli Stati Uniti il 26 agosto e nelle sale italiane il prossimo 3 novembre. Nel frattempo, a Los Angeles si è tenuta la premiere che ha visto sfilare i protagonisti Jason Statham e Jessica Alba, insieme alla fidanzata dell'attore, la bellissima Rosie Huntington-Whitley. Il film racconta le avventure di Arthur Bishop, appunto Jason Statham, uno dei sicari più richiesti al mondo, meticoloso, non sbaglia un colpo ed è specializzato nel far sembrare gli assassini dei normali incidenti. L'attrice che interpreta Gina nel film, sul tappeto rosso, ha indossato un abito a sirena senza spalline con motivi floreali, che ha messo in risalto un fisico davvero perfetto, un'anteprima di quello che vedremo sul grande schermo. La modella ed ex protagonista di Transformers, invece, ha osato con un look che in pochissime possono permettersi. Top fucsia, con collarino e pantaloni abbinati, con spacco vertiginoso e a vita alta, per metterne in risalto la figura.